Come applicare così la lingua italiana su Far Cry 6? Ovviamente le voci sono inglesi però se tu vuoi cambiare la lingua all'interfaccia quindi da inglese o da un'altra lingua a italiano però non riesci a trovare così nell'audio, si sottotitoli linguaggio come puoi vedere qui ci sono tutte pure l'italiano però se non c'è italiano sul gioco bisogna modificarlo direttamente nella cartella di Far Cry 6. Quindi in questo caso quello che ci resta da fare è chiudere un attimo Far Cry 6 entrare così nella sua cartella quindi vai dove l'hai installato quindi io vado nella sua cartella eccolo qua vado su Far Cry 6 bin scendo fino a giù fino a trovare U play trattino basso R2 ci clicco sopra language questo qua le lingue valide come puoi vedere Qui bisogna applicarlo quindi tu copi questo fai copia e lo metti al posto di end use quindi al posto di inglese e fai così fai file e salvi così il documento chiudi qua E stai certo che puoi Far Cry 6 con l'interfaccia è in italiano quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like per altri problemi, commenta sotto al video e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Ciao!